E' un momento particolare perché, come diceva Fabrizio, nel lontano 1997 abbiamo fatto di tutto, anche una volta andando anche a esporci con le amministrazioni, perché volevamo conciutamente l'apertura del Tudigedo e ci siamo riusciti. Quindi il momento di oggi è un momento di grande gioia, di grande letizia, di grande pace, ricordandoci, come diceva sempre Fabrizio, che il Tudigedo non a caso è un momento importante per recuperare la nostra cultura mediterranea. Troppo spesso abbiamo delle manifestazioni di egocentrismo culturale che non giovano a questo tipo di crescita. Tudigedo aperta significa anche questo, recuperare la nostra identità nel rispetto e nel dialogo e nel confronto. Quindi per me è veramente benvenuti a tutti e grazie. Speriamo che sia l'inizio di una nuova avventura. Prego, Assessore. Buongiorno a tutti. Io chiudo questo giro di saluti e ringraziamenti, porto la forza del Consiglio Comunale perché presiede la Commissione Cultura in Consiglio. Sono anch'io molto emozionata di questa giornata, penso che sia una scelta molto importante e significativa che la diciottesima edizione di Monumenti Aperti apra con l'inaugurazione del sito di Tudigedo che poi, come è stato ricordato, non rimarrà aperto solo in occasione della manifestazione ma sarà visitabile anche nel corso di quest'anno e degli anni a venire. Mi associo i ringraziamenti agli organizzatori, a tutte le scuole e volontari che consentono di tenere aperti in queste due giornate, in questa maratona, oltre ai 70 siti in città e non solo nella città di Cagliari perché è una manifestazione, come è stato detto, che coinvolge molti comuni della Sardegna e che stiamo esportando anche fuori, oltre i confini dell'isola. Quindi complice il bel tempo, auguro a tutti voi una buona manifestazione con l'augurio che sempre più monumenti siano fruibili per tutti i cittadini, non solo della nostra città. Grazie.